43 nuovi contagi in Puglia, questo è il dato diffuso dall'ultimo bollettino regionale. 12 nella provincia di Bari, 2 nella provincia di Batte, 11 nella provincia di Brindisi, 12 nella provincia di Foggia, 3 nella provincia di Lecce, 3 nella provincia di Taranto. Sono stati registrati 5 decessi, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Batte, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati nel totale 62.460 test. Sono 708 i pazienti guariti e 2.949 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi Covid-19 in Puglia è quindi di 4.072 casi.